Svolta per quanto riguarda il restyling e la riqualificazione di Portalba e dell'Arco. C'è una data, il 16 febbraio, per il deposito della perizia del consulente d'ufficio del Tribunale. Manca meno di un mese, quindi, per l'eliminazione delle reti di contenimento che da un decennio deturpano il monumento. L'altra novità, anche questa di rilevo, riguarda il miglioramento dell'illuminazione pubblica. Il contenzioso legale, che va avanti da anni tra comune e privati, scioglierà il nudo delle responsabilità delle infiltrazioni e della manutenzione dell'Arco. Il procedimento è arrivato a un punto decisivo. Sono state infatti consegnate le perizie di parte sia a quella del consulente dell'amministrazione di Palazzo San Giacomo, sia a quelle dei tecnici dei proprietari delle abitazioni che si trovano nei pressi delle reti di contenimento. La palla passa ora al consulente tecnico d'ufficio designato dal Tribunale. Le novità non riguardano solo l'arco, la cui riqualificazione resta comunque il punto chiave per il rilancio. I librai sottolineano da tempo l'oscurità della via, che sebbene sia ufficialmente un'area pedonale, specialmente di sera diventa il regno di auto in sosta vietata e passaggi di scooter.